tomahawk tactical innanzitutto questo tomahawk è corredato in un bel fodero bullonato nei punti di massima di massima usura di massimo attrito chiuso da un bottone automatico e sul retro troviamo un passante di generose dimensioni per inserirlo in eventuali cinture o cinture tomahawk semplice ma efficiente la lama è fissata da tre bullonature a bruvola da entrambi i lati la manicatura molto resistente è un nylon un nylon robustito peso è sui 570 grammi ha un bel filo questa parte qua serve per essere utilizzata come chiave inglese infatti a varie gradazioni qua abbiamo un tagliacavi invece questa parte qui è affilata potrebbe servire per tagliare rovi o cavi e qua abbiamo tipo uno sfondavetri uno sfondacassi una punta la manicatura ha un foro passante per mettere un eventuale cordino e una zigrinatura doppia che lo si possa impugnare anche a due mani infatti qui ha una specie di protezione per non andare oltre infatti l'impugnatura potrebbe venire essere così o anche impugnato in maniera corta qua su infatti qua c'ha una una specie di protezione che può servire per fare dei piccoli lavori con più precisione notare lo spessore della lama è notevole andiamo andiamo andiamo